L'importante è che il pubblico dovete unirvi, abbracciare chi avete vicino, perché è una canzone d'amore, che sia maschio o dono non importa, tirare su i cellulari del cedino, magari se si abbassano appena lucido tanto, che devono leggere, se avete problemi. Questa è una canzone d'amore che parla dell'amore che c'è in un pop, l'abbiamo immaginato, in questo popolo faiale, che viene preso su un carro e arriva un bivio nella sua vita dove mi vado a riprodurre o vado al macello. Lui la prima volta si fa riprodurre, la seconda volta tutto felice, ah la lemmi, oh guarda mi portano da un'altra. Eh sì, ma la storia della vita di ciascuno di voi, ma anche il marcio sa che amore, merda e cenere, ci sono tre robe tenere. Per cui ci sceglie a maggio e non di caso, cerchiamo di non mischiarle tutte. Io ho quante cose in pano dai rum a terra ogni giorno, allora quando volete, mano agli accettini, per favore regalateci questa pagine meravigliosa. Pronti? I testi sono qui, i testi sono qui, chi è che suona? Da quando che ti ho visto, so fare rotto del marcio, ho capito che tu mi piaci molto. Vai Giorgio! Marietta, te mi piaci, come stai, come a fare, ma te prego torna a casa, che ti faccio smedellare. Te mi piaci con te si dici, come galline del punaro, dopo quando che te amo, mi sei toccato il sentimento. Da quando che ti ho visto, so fare rotto del marcio, ho capito che tu mi piaci molto. Ma quando che ti ho visto, so fare rotto del marcio, ho capito che tu mi piaci molto. Scusa, senza musica, allora. Scusa, senza musica. Allora. Marietta, te mi piaci, come stai, come al mare, ma te prego torna a casa, che ti faccio smedellare. Mi piaci, te mi piaci, come te si dici come a me, per buonare, e dopo quando ti piaro mi sento tanto il sentimento, non come quando ciò puoi piedere, mi unici e cavolette, e li tocco anche le tette, ma non sento sentimento, niente, no. Ma quando che t'ho visto sul pariato del basso, ho capito che tu mi piaci molto, solo da me fosse, ma quando che t'ho visto sul pariato del basso, ho capito che tu mi piaci molto, da quando che t'ho visto sul pariato del basso, ho capito che ti amo molto. Signore e signori, il meraviglioso gruppo di Chiamate Roma 3131.